Ciao a tutti, sono Pella e questa è la mia storia. Ricordo bene quel giorno, quel giorno in cui io a lei scoprimo la verità. Ero incinta. Ero agitata, non mi tenevo più in piedi. Ero frustrata all'idea di essere stata messa in mezzo a una cosa meno familiare, come per me non era familiare Cesare. E' solo il capitano della squadra, un bel sorriso, occhi piccoli e accattivanti. In poche parole, era il solito ragazzino di cui si innamoravano tutte. Fra giorni cercai di nascondere la verità ai miei genitori e con successo, ma il motivo è che non mi consideravano. Da una parte è la voglia di urlare a tutti la verità, dall'altra parte è quella di scappare da quel corpo, che ormai non sentivo più il mio. La notte pensavo, pensavo e ripensavo. Mi sentivo inadeguata, pensavo, era terrorizzata. Ma per abortire dovevo avere il permesso dei miei genitori e soprattutto non so se avrei retto tutto quel peso. Nella mia testa non c'era nient'altro che una grande confusione. Ero in uno stato di caos. Dovevo correre, solo correndo mi sarei scarita un po' le idee. Ormai neanche più correre faceva effetto. Ho combinato un casino più grosso di me. Da quando ho scoperto di non essere dentro da sola, tratto il mio corpo come un estraneo. Non mi riconosco più. Non sono più la vecchia perla, quella sorridente, chiacchierona, quella ragazza spensierata che era una volta. La perla di adesso è chiusa, depressa e solitaria. Ricordo i miei tempi, quando c'eravamo io allegra, che come delle stupide ridevamo, giocavamo, quando andavamo al parco a fare corsi immense, a giocare a palla, a rarpecarci sugli alberi, alti che ti facevano perdere. Mi mancano quei miei tempi, nel quale pensavi di essere depressa se un ragazzo ti respingeva. Solo adesso capisco cosa vuol dire soffrire, il vero significato del sentimento tristezza. A volte provo a illudermi, dicendo che passerà tutto, che è solo un brutto sogno, o meglio, un incubo. È proprio vero, sto diventando una donna. Non esteriormente, ma interiormente. È incredibile come ti facciano crescere certe cose. È una linea sottile che segna il confine tra essere ragazzina e diventare una donna. Nonostante sia diventata più matura o bisogno di miei genitori, sono le persone che mi hanno sempre sostenuta, difesa e aiutata nel momento del bisogno. Che madre potrei essere io che ho ancora così bisogno dei miei genitori. Non sono ancora molto consapevole della situazione in cui mi trovo. Un bimbo dentro, invisibile, eppure così presente, chiuso nella mia pancia che da fuori sembra piatta come sempre, eppure pesa tantissimo. È ormai arrivato il tuo momento, caro bambino, ed io, credo, una decisione l'ho presa. In qualunque caso, sii felice. È la scelta che ho fatto, spero sia quella giusta, davvero. Grazie. 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 Grazie.